Le fotografie scattate quotidianamente dal servizio Sanità della Regione Marche e riportate attraverso i dati dei bollettini raccontano di uno scenario molto serio per quanto riguarda la situazione degli ospedali e il numero dei ricoveri nelle strutture regionali. Nello specifico ad essere particolarmente sotto pressione è proprio l'ospedale di Pesaro, il quale ormai da un po' fa i conti con la riduzione di posti letto e di personale, che dalle varie attività destinate alle più diverse patologie vengono impiegati per fronteggiare la nuova ondata del coronavirus che ha colpito la Regione. La struttura pesarese è la prima nelle Marche per numero di posti e di pazienti che si trovano nei reparti Covid. Ad oggi sono 39 i ricoverati in terapia intensiva, mentre delle 214 degenze a livello regionale nelle aree di semi-intensiva, più di un terzo, 78 persone, si trovano a Marche Nord. 53 invece le presenze nei reparti non intensivi. Nelle ultime due settimane l'accesso alle aree intensive e ai reparti normali di Marche Nord è cresciuto di oltre il 50%. Nell'ultimo fine settimana l'ospedale pesarese ha visto l'attivazione di ulteriori posti letto sempre dedicati ai pazienti Covid, allestiti nel vecchio reparto di chirurgia. La disponibilità delle quasi 20 nuove postazioni però è terminata molto rapidamente e tutti i letti sono stati occupati già ad inizio settimana. All'esterno del pronto soccorso sono inoltre tornate le tende allestite anche nel periodo più duro della scorsa primavera, utili a ricavare il maggior numero di posti disponibili in cui poter accogliere i pazienti. L'alto tasso di degenze a Marche Nord riguarda pazienti provenienti non solo dal territorio pesarese, ma anche da altre province dove il virus circola rapidamente, come Macerate e Ancona, colpita dai numeri e dai contagi più severi registrati fino ad oggi di questa nuova ondata.